Domani sera si ripropone un appuntamento importante allo studio Z di Caravaggio. Bisogna rifare, mi sono impaperata. Si presenta molto bene. Sono rievi, Adriano. Vedi che la metti in difficoltà. Io la metto in difficoltà. No, 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 no. Ho uno sguardo positivo. Domani sera allo studio Z di Caravaggio ci saranno importanti manifestazioni. Ci stiamo riferendo al quarto grangalà per l'Unicef. Per parlarne abbiamo oggi con noi uno degli organizzatori, Adriano Cassia. Innanzitutto le chiediamo qual è il programma della serata. Il programma della serata sarà il seguente. Partiremo alle ore 21 con l'intrattenimento danzante per tutti i nostri ospiti, con l'orchestra naturalmente. Alle ore 22 e 30 ci sarà la parte centrale dello spettacolo. Alle ore 23 e 30 ricominceremo a ballare fino alla fine della serata. Una caratteristica di questi appuntamenti che vengono fatti in favore dell'Unicef è quella comunque di organizzare sempre degli ospiti di grande richiamo. Quest'anno chi avete invitato? Naturalmente assieme alla dottoressa Ermanna Vezzoli Toma che è il presidente dell'Unicef di Bergamo avremo i giocatori dell'Atalanta e naturalmente i loro dirigenti in quanto l'Atalanta è ambasciatrice a Unicef. Avremo naturalmente anche il grande campione Felice Gimondi. Inoltre, oltre a queste, avremo i nostri cantanti Enrico Musiani, Stefano Nutti e Bruno Bianchi. Normalmente tutta la serata sarà alietata dalla Compagnia Danza Caravaggio per quanto riguarda i balletti. La Compagnia Danza Caravaggio Domani sera allo studio Z di Caravaggio si terrà il Gran Galà in favore dell'Unicef, arrivato quest'anno alla sua quarta edizione. Per parlarne abbiamo oggi con noi Adriano Cassia che è uno degli organizzatori di questa manifestazione. Innanzitutto le chiediamo qual è il programma della serata? Inizierà alle ore 21 con un interntrenimento danzante per tutti naturalmente. Alle 22.30 ci sarà la parte centrale con uno spettacolo e naturalmente verso le 23.30 continueremo naturalmente danzando sempre con l'orchestra. Una prerogativa di queste manifestazioni organizzate in favore dell'Unicef è quella comunque di invitare ospiti di grande richiamo. Quest'anno che avete invitato? Con il presidente dell'Unicef, la dottoressa Ermane Vizzori Tomema, abbiamo invitato i giocatori dell'Atalanta e dei dirigenti. Naturalmente loro sono ambasciatori Unicef per tutto il mondo. Inoltre c'è Felice Gimondi e allieteranno la serata i cantanti Enrico Musiani, Stefano Nutti e Bianchi Bruno. Il tutto sarà corroborato dalla presenza della Compagnia Danza Caravaggio e dei suoi balletti. Grazie. Grazie. Grazie.